Vieni, Niki! È ora di andare a letto! Smetti di giocare, forza! No, lo voglio! Cosa hai detto? Non rompere le catele nel letto! Muoviti! No, che cos'è quella? Non provare a spararmi con il tuo fucile, capito? Sto diventando blu! Ma stai scendendo di vita! Vattene, no, sto semplicemente diventando blu! Quello incastro ovunque! Diventi avatar! Ha funzionato? Sei morta? Perché non mi ha dato che ho vinto! Perché sei tornata in vita? Perché il destino è nelle mie mani e quindi devo ucciderti! Tornerò sempre in vita per distruggerti, ricordi... Dicevamo... E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi! Sì, sono Stefano e questo gioco è Roblox! E oggi siamo su una mappa molto particolare perché sarebbe Who's Your Daddy però su Roblox! È piena di modalità super divertenti, ci è sembrata super divertente da giocare, quindi eccoci qua! Esattamente! Abbiamo fatto Wizard Daddy normale, abbiamo fatto Wizard Daddy su Minecraft, adesso lo facciamo pure su Roblox! Direi che questo gioco ci piace proprio tanto! Io ho un problemino! Dimmi! Sono un piccolo bambino spawnato sopra il tetto, mi si è flipato! Aspetta, dove sei? Devo dire che il bambino in questo gioco è troppo puccioso! Sembra un ovetto, è troppo bellino! Cioè, mi ricorda troppo un ovetto, fa troppo ridere! Ciao! Sono il tuo figlio del tomato! Ti posso pestare? No, grazie! No, ok, peccato! Dobbiamo giocare in piscina, davvero? Sì, un gioco per te! Ok, che cos'è? No, no, no! Wow, ma stai facendo una capriola? Era una mossa di breakdance, ok? Non prevista, ma era una mossa di breakdance! Ma sei bravissima! Non volevo fare questo! Brava papà! Voglio acchiapparti! Lasciami! Lasciami, non puoi tenermi in cabbia! Sono libero come i cavalli selvaggi! Sì, e me ne vado in piscina! Allora, mi stai facendo arrabbiare? Sì, sì! Tieni, non a negare! Dove sei? Dove sei? Sono talmente piccolo che non mi vedi! Dove sei? Rieccomi! Vieni qua! Guarda di che bel colore che ero diventato! Stai diventando verde, non va bene! Ho preso la bronzatura! Tieni, ecco qua! Così non a negare mai più in piscina! Aiuto! Papà, non funziona bene il salvagente! Diciamo che... Va benissimo, sei bravissimo! Guarda, non ho mai visto un bambino nuotare meglio di te! Bravo! Non funziona! Mi piace il sacco! Ah, non mi piace questo gioco! Me ne vado da un'altra parte! Ah, allora, ti devi comportare bene! Sì, sì! Guarda, conosco... Non mi devi far arrabbiare! Questo gioco che si chiama Brucia con la candela! Lo conosci? Allora, non ci devi provare! Portiamo via le candele che tu hai tendenze strane, quindi nascondiamole! Ok, hai ragione, hai ragione! Nascondili tutte! Io ne ho mentre, vado un attimo a controllare una cosa! No! Spacca! Yeah! Hai spaccato il tavolo preferito della mamma! Mi basta prendere un pezzo di vetro! Ah, lo sto mangiando! Quando tornerà sarà arrabbiatissima! Lo sto mangiando! Smetti di mangiare il vetro! Papà, mi fa male la pancia! Sei un bambino terribile! C'è qualcosa che mi sta pungendo! Ti meriti di essere abbandonato! Solo quello ti meriti! Sei un bambino terribile! Allora, la cosa più bella di questa mappa... Prendendo le cose seriamente... ...è che ha tantissime modalità! Tra cui... Nascondino! Quindi io personalmente voglio fare un nascondino! Ok! Vai di nascondino e vediamo che succede! Chi si nasconde meglio in questa casa! Ma vedo tutto buio! Devo aspettare 30 secondi in cui ti nascondi! Quindi sei il bambino! Oh aiuto! 30 secondi sono pochissimi! Giusto? Sì! Ok! Esatto! Esatto! Non ce la farò mai! Ma lo sento che non ce la farò mai! 10! No! 8! 7! Sto per arrivare Ferenichi! Ma almeno sei riuscita a nasconderti? Sì! Ok! Ma ho solo due minuti per trovarti? Eh, nascondino estremo questo! Ti devi muovere! Ma siamo pazzi! Allora, qua non sei... Almeno posso correre velocissimo! Allora, qua... Il mio è un nascondiglio terribile, te lo dico eh! Uh! Ma non sapevo esistesse! Non sapevo neanche io! Guarda, questo è divertentissimo! Dobbiamo provarlo! Bellissimo, però ho già provato e non ci posso salire! Ma non ha senso! Non ce la farei mai! Te lo dico! La lavatrice? No! Ma quante stanze ci sono? Neanche le ho viste tutte quelle stanze! Te l'ho detto che è epico per nascondersi! E' fantastico, è pieno di cose! No! Non sono fuori, mi dispiace, hai proprio sbagliato! Ma... GTA ti ha allenato troppo! Sì, sono diventato un fenomeno! Ti ha forgiato! Sono diventato un fenomeno! Spiegami dove eri! Allora, ce ne è presente il semi interrato quando vai sotto? Sì! C'è una scala per salire in alto! Siccome però la porta è chiusa, mi sei incastrato in alto nella scala, quindi tu da giù vedevi solo la scala e non mi vedevi nascosta in alto nella... Sì, sono diventato un bug! Rimaneva incastrato... No, potevi fare salire e scendi, però nel momento in cui andavi in alto rimaneva in alto, capito? Complimenti! E quindi sei rimasta lì! Complimenti! Tocca a Steph! Trenta secondi per nascondermi! Sono pochi, muoviti! Io ovviamente non vedo il tuo schermo, quindi fai... Impegnati! Mi raccomando non guardare perché... No, ovviamente no! Potrebbe essere un problema! Allora... Non so dove andare! Non so dove andare! È difficile, è difficile! C'è otto secondi e ti posso trovare! No, sei pazza! Sei! Cinque! Muoviti! Non è possibile! Ti sei nascosto? Eh, più o meno, mi manca ancora un attimino! Zero secondi, vado già in giro! Ok, va bene! Io ho finito di nascondermi nel mentre che mi cercavi, ti dico la verità! È perché non ti bastano, non ti bastano! Beh, sì, certo, trenta secondi sono davvero pochi! Vai, vai, mi sono nascosto! Non sono molto seguitato! C'erano i microonde, le cucine, i bagni, i garage... No, c'è di tutto, è incredibile! Nel cortile c'è una stanza dove puoi entrare, sembra tipo il bunker, però è chiusa! Quindi serve tipo una chiave e quindi non fai in tempo a nasconderti in trenta secondi, però sarebbe super epico! E poi c'è pure una pokeball nel cortile, non so perché! Dieci! No, dai! Nove, otto, sette... C'è impossibile! Posso dirti una cosa? Guarda il mio schermo e dimmi se lo riconosci! No, sei nella camera di su! Nella camera del bambino! Tu hai aperto... E tu lì dietro! Il giocattolino è dietro il divano lì a fianco e non mi hai notato! Perché sei troppo piccola e non ti si vede neanche qui! Ma assurda! Appena ho realizzato che hai aperto quello ho fatto, non mi ho trovato! Poi ti vedo andando e mi ho fatto come! Come sempre faccio sghignazzare i consolini per qualche minuto a tua insaputa! Non è possibile! Trollata malissimo! Cosa proviamo adesso? Sì, altra modalità, altra modalità! Allora, vai a dire match! Adesso ci dobbiamo affrontare per capire chi è il bambino più potente! Ma cosa stiamo facendo? Io sono il bimbo più potente! Guardami, guardami che spada che ho! Aspetta, ma questa io l'avevo snobbata! Guarda! Che cos'è? Aia! C'è un bambino più potente! Chi ha vinto? Non so come! Ho aperto lo shop schiacciando tutto! Dice che ho vinto io, ma secondo me mi hai dato tu il colpo letale! Non lo so! Ci riproviamo perché mi è piaciuta un sacco! Però facciamo che prima sondiamo il cancello! Ok! Ok! E poi iniziamo a combattere! Perché altrimenti è il delirio! E adesso chi vincerà? Allora, quindi prima di tutto sondiamo questo! Ok! Ci stai riuscendo? No! A me piaceva stare qui dentro! Mi sapeva molto di arena! Ma ci sono un sacco di armi qua fuori! Ecco, l'ho distrutto! L'ho distrutto! Lo devi fare a mani nude! Ah! Senza armi, vedi? Ah! Ok! Allora, cerchiamo un'arma migliore! Un'arma migliore contro Steph! Oh mio Dio! Fereniki! Disgraziato! Dove sei? Sei disgraziato! Perché trovi le cose più belle solo tu? Scappo! Dove sei? Non ti interessa! Scappo! Vieni! Scappo! Non ti posso affrontare con un carri armato! Accidenti! È una cosa ancora non l'hai capita! È impossibile muoversi con quello! Quindi puoi stare tranquilla! E allora vengo a ucciderti! Scusa! Perché non me l'hai detto prima! Vengo subito a ucciderti! No, grazie! Non provare a usare la mia stessa arma! No! Oh no 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 no! Scendi qua! Scendi affrontami faccia a faccia come fanno i veri guerrieri! Mi stai sfidando? Adesso lo sposto così mi ro' al dritto! Vuoi vedere chi è il vero bebè? Eccomi! No 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 no! Che cos'è quella? Dell'azione! Mi devo nascondere! Vieni! Non sei abbastanza coraggioso! Vabbè detto! Oddio mi stai facendo! Ti uccido! Ti uccido! Devo scappare! Devo scappare! Sei un bebè scarsissimo! Scappo! Ma chi è che scappa? Solo i codardi scappano! E fammi vedere adesso se hai coraggio! Vediamo chi è il codardo adesso cara! Tu sei un codardo! Eppure sei tu che stai a distanza! Vieni ad affrontarmi! Vieni bellissima! Vieni! Non ha vinto nessuno! Pareggio! Ma moralmente ha vinto Steph! Perché sei tu che sei fuggita! No no no! Sei tu che sei fuggito! Con la coda tra le gambe come i codardi e i disertori della guerra! Capito? I disertori della guerra! Tu non mi hai voluto affrontare e hai perso! Perché questa è una sconfitta! Morale ma è una sconfitta! Va bene! Giochiamo a quella horror! Va bene! Non so se piacere ai consulini quella horror! Però secondo me è interessante da provare! Va beh dai c'è! Il gioco è lo stesso solo che c'è buio! Io sono il bebè e tu sei il papà! No ma non è giusto! Allora mi ha scritto! Allora a me dice trova ed è un pugno al tuo papà! In pratica è stata quella! Vieni qua! No grazie! Ma io sono tuo figlio aletto! Non mi puoi lasciare qui? Sì ti lascio volentieri! Allora io vedo tutto rosso! È molto strano perché praticamente oltre un certo tanto non vedo! Vedo rosso e poi man mano che mi avvicino vedo le cose apparire! Capito? Quindi è davvero difficile trovarti! Aiuto! Non so dove sto finendo! Ah! Oh no! Ho preso un'arma! Sì io sono in un piccolo a cieco! Dove sei? Dimmi dove sei! No non posso! Ti voglio vedere! No non posso! Dove sei? Perché vuoi stare lontano dal tuo figlio aletto? Perché? Perché sei un demone! Non mi puoi acudire! Ma io sono un bambino carinissimo! Bellino e pocciosissimo! Vieni a vederli meglio! I tuoi occhi in rosso sangue! Vieni a vederli meglio! Non li voglio vedere meglio! Non me li dimenticherò mai! E sto cercando un modo di bloccarti e di eliminarti per sempre! Ma dove? Io vorrei chiamare un esorcista ma a quanto pare sono tutti occupati oggi! No sei solo! Siamo solo tu ed io in questa casa! Mi dispiace per te! Solo tu ed io! Dove sei? Dove sei? Sì sono vicino a te! Sono vicino a te! Se stai facendo versi strani sono vicino a te per forza! Ti sbagli! No non mi sbaglio! Io non mi sbaglio mai! Tu ti sbagli sempre cara! Cosa hai trovato? Forse Steph sa come eliminare il demone! No! 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 Cosa sta succedendo? Io non vedo... Dove sei? Io non vedo neanche il tuo monitor! Dove accidenti sei? Eccoti! No! Ho anche un'arma! Ti prego! E non ho paura a usarla! Ti prego! Dove sei? Aiuto! Dove sei? Dove è accidenti? Dove è accidenti? Fatevi gire! Stai dentro l'armadio? No! No! Ok! Non ti vedo più! L'ho seminato il demone! Perché ripeto! Non vedo fino a una certa distanza! Quindi come ti allontani? Io non vedo più nulla! E non ho idea di che direzione prendi! Allora io credo di aver trovato quello che devo fare per vincere! Ok! Ok! Se non appunto resistere altri un minuto e quaranta! E mi serve la gasolina! Che sarebbe appunto la benzina! La benzina! Per far funzionare il generatore della casa! Il discorso è che nel punto dove sta di solito non c'è! Eh ma non vedo niente! È troppo buio! Loro mi nascosta tu la gasolina! Mettilo! No! Non lo faccio! Lo trovate in mezzo al soggiorno! No io ho solo la pistola e non posso prendere altro! Non mi sta per sconfiggere! Come hai fatto? Hai ucciso tuo figlio! Sei una persona terribile! Ricordati che hai ucciso tuo figlio! Ma ti ho ucciso? Sì! No! Hai sconfitto tuo figlio! No 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 no! Il tuo povero figlio che poteva essere salvato dal demone e tu hai deciso di distruggere! Io ho semplicemente acceso la luce! Bravo! Bravo! Complimenti! Che padre esemplare che sei! Se non mi faccio uccidere da un demone! Esatto! Perché se tuo figlio è impossessato tu ti devi far uccidere! Perché è tuo figlio! Capito? Funziona così! Nel filmo è sempre così! Se vuoi invertiamoci il ruolo e fammi vedere come tu ti fai uccidere da me! No grazie! Ecco! Comunque ho messo appunto la benzina nel generatore! Ho riacceso le luci e semplicemente il demone con la luce scompare! E quindi Steph è salvatore dei demoni! Carina anche questa come modalità! Molto! Voglio scidarti un'ultima volta ad Angry Games! Ma è fantastico Angry Games! Che poi sarebbero i giochi della fame! Perché i bambini sono sempre affamati come me! Quindi mi piace un sacco! Allora comunque... Felicissimo! Mettiamo anche un sondaggio perché Angry Games Se questa mappa la volete ogni tanto nelle tre mappe in uno Perché secondo me è divertente fare solo alcune modalità ogni tanto E quindi potrebbe essere fantastica di rifare una volta ogni tanto Allora scendo subito qui Mi prendo la mia spada laser Ok Voglio trovare qualche arma Non sono stata io! Ok perché mi guardi? Perché? C'è niente che abbiamo iniziato Perché mi guardi? Ma non sono stata io! Non è colpa mia! Allontanati! Onesti in storia! No! 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 Mi stai congelando! Sto diventando blu! No! Sto diventando blu! Ma stai scendendo di vita! Vattene! No! Sto semplicemente diventando blu! Poi mi incastro ovunque! Sto diventando blu! Ha funzionato? Sei morta? Perché non mi ha dato che ho vinto! Perché sei tornata in vita? Perché il destino è nelle mie mani e quindi devo ucciderti! Tornerò sempre in vita per distruggerti! Ricordi! Dicevamo! Che tornerò di nuovo in vita per distruggerti! Hai capito? Ok! Hai capito? No! Avrò la tua testa qui! Avrò la tua testa! Aiuto! Mi sto incastrando! Dove cavolo stai andando? Devo girarlo! Ti è un disgraziato! Ti sei fatto esplodere! Che è successo? No, no, no! Sto vivo! Vai via con quel martello! Però non vale che resusciti! Perché sono immortale! Sono immortale! Non è per niente giusto! Dimmi che almeno ho vinto! Dai! Non è giusto! Ma non è giusto! Però questa è una sfida importantissima e ce l'interrompete così ma non è giusto! Non è per niente giusto! Non è giusto! Dai comunque direi di fermarci così per questo video è stato troppo troppo divertente! Wizard Lady è sempre una garanzia come genere di gioco! E l'hanno fatto davvero bene qua su Roblox! Ho apprezzato un sacco! Tutte le modalità sono super divertenti! Mi è piaciuto davvero molto! Ma anche su Minecraft ha fatto bene! Sono proprio bravi a riprodurre questo gioco! Ogni volta è divertente! Ogni volta è fantastico! Quindi ci fermiamo così! Fateci appunto sapere se ogni tanto la volete rivedere in tre mappe in uno! Perché sarebbe divertente da rimettere ogni tanto in mezzo! E ci fermiamo! Beh ragazzi! Se ci riesce così lasciateci un like! E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao e alla prossima! Ciao ciao! Ciao ciao!